Lo scorpione doveva attraversare il fiume, così, non sapendo nuotare, chiese aiuto alla rana. Per favore, fammi salire sulla tua schiena e portami sull'altra sponda. La rana rispose, fossi matto, così appena siamo in acqua mi pungi e mi uccidi. Per quale motivo dovrei farlo, incalzò lo scorpione. Se ti pungo, tu muori e io annego. La rana stette un attimo a pensare e, convintasi della sensatezza dell'obiezione dello scorpione, lo caricò sul dorso e insieme entrarono in acqua. A metà tragitto, la rana sentì un dolore intenso provenire dalla schiena e capì di essere stata punta dallo scorpione. Mentre entrambi stavano per morire, la rana chiese all'insano ospite il perché del folle gesto. Perché sono uno scorpione, rispose lui. È la mia natura. Grazie a tutti. Grazie a tutti.